Salgono a 1,1 miliardi di euro le risorse già assegnate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ai progetti della misura del PNRR Parco Agrisolare, potenziata con il secondo bando voluto dal Ministro Francesco Lollobrigida. L'obiettivo è sostenere, con finanziamenti a fondo perduto, le imprese agricole della produzione primaria e della trasformazione per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali senza consumo di suolo. Prendendo atto della poca partecipazione riscontrata con il primo bando pubblicato nel 2022, è stato attivato fin da subito un attento ascolto delle istanze del comparto produttivo e poi un confronto con la Commissione europea. Si è riusciti a migliorare la misura e il nuovo bando ha ottenuto una straordinaria risposta da parte del mondo produttivo, ha ricordato il Ministro Lollobrigida, che ha evidenziato tra le modifiche l'aumento fino all'80% del contributo a fondo perduto concesso alle imprese agricole su tutto il territorio nazionale. Con questi investimenti si vuole incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili senza alcun consumo di suolo e al contempo sostenere la competitività delle aziende italiane grazie alla riduzione dei costi di approvvigionamento energetico, che per le imprese agricole rappresentano in media il 20% dei costi variabili.